Buongiorno. Buongiorno e benvenuti in Università Cattolica, anche se in questa modalità online che però ci permette di essere riuniti insieme e anche molto numerosi. Noi abbiamo ricevuto più di 1400 adesioni dalle studentesse e dagli studenti delle scuole e sono i primi che vorrei ringraziare perché questo evento è stato pensato per loro. Ma poi naturalmente ci sono gli studenti dell'Università Cattolica e anche le persone che hanno voluto collegarsi con noi. Questo seminario è stato pensato in concomitanza con il giorno della memoria che come sapete si è celebrato ieri, come ogni anno il 27 gennaio, che è la data della liberazione del campo di Auschwitz-Birkenau. E' un momento molto importante che ci riguarda tutti naturalmente e quindi non siamo qui soltanto a parlare di quelle persone che vogliamo certamente ricordare, cioè le vittime dell'olocausto, ma di noi perché guardate sono queste situazioni estreme di cui stiamo appunto per parlare, le situazioni che ci interrogano più profondamente su chi siamo. E quindi speriamo che la giornata di quest'oggi ci aiuti a capire meglio chi è l'essere umano nel bene e nel male, nel grande male che ha saputo compiere e anche nel bene, cioè nel modo in cui ha saputo resistere a questo male senza perdere la sua dignità. Prima però di entrare nel merito del nostro tema vorrei passare la parola al preside della Facoltà di Scienze della Formazione, il professor Domenico Simeone. Ben trovati, mi chiamo Domenico Simeone e sono il preside della Facoltà di Scienze della Formazione. Vi porto i miei saluti insieme ai saluti del professor Marco Trevisan, preside della Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali e della professoressa Anna Maria Fellegara, preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza. La sede di Piacenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore ha organizzato questo incontro in occasione della Giornata della Memoria. Perché ciascuno di noi possa prendere consapevolezza di quello che è accaduto e ricordando quegli eventi si impegni a non ripeterli mai più nella storia dell'umanità. In questo siamo guidati dalla testimonianza di due persone straordinarie. Primo Levi, un grande scrittore, che nelle sue opere ha narrato quello che ha sperimentato nei campi di concentramento. Il suo volume più noto, Se questo è un uomo, è un testo fondamentale che ci ha permesso di capire che cosa è accaduto nei campi di concentramento e come sia stato possibile sopravvivere a quegli eventi estremi. Viktor Frankl, uno psicologo che ha vissuto questa esperienza e ha saputo guardarla e rielavorarla con gli occhi dello psicologo, con gli occhi di chi cerca di capire anche quali sono alcuni meccanismi relazionali, alcune modalità con cui avvengono i soprusi ma con cui anche si può resistere in situazioni estreme. Resistere appunto in situazioni estreme, questo è il titolo che molto opportunamente è stato dato a questo incontro. Noi lo possiamo esprimere con una parola che è resilienza, una parola poco comune che indica nell'ambito della fisica dei materiali le caratteristiche che alcuni materiali hanno di poter resistere agli urti, di poter resistere alle sollecitazioni dinamiche, di non rompersi di fronte a urti improvvisi. Ecco, lo possiamo usare anche per le persone, per indicare il contrario della fragilità, della vulnerabilità. A volte, anche in situazioni estreme, gli uomini sanno far emergere una forza insperata. E anche laddove sembra prevalere la disumanità, in realtà c'è sempre la possibilità di far germogliare i semi di ciò che è umano. Questo è quello che hanno testimoniato Primo Levi e Victor Flank. Spero che con questo incontro possiate riscoprire questi autori, possiate meditare su quell'esperienza drammatica, ma soprattutto possiate essere consapevoli di quanto è importante impegnarsi perché questo non accada in futuro. Grazie. Sono anche grato alla professoressa Milena Santerini, già deputata alla Camera, che è l'attuale coordinatrice nazionale per la lotta contro l'antisemitismo e che ha voluto essere presente con noi questa mattina con un saluto. Quindi, prego Milena. Buongiorno a tutti. Grazie di avermi invitato a fare un saluto a questo convegno così interessante, così bello, Resistere in situazioni estreme. Primo Levi e Victor Frank, testimoni della Shoah. Saluto tutti gli studenti presenti e ringrazio naturalmente in particolare il professor Bruzzone, mio collega e amico, e anche la dottoressa Frustagli, che ha organizzato con lui questo incontro. Io, come sapete, mi occupo di coordinare la lotta contro l'antisemitismo in Italia. In questi giorni abbiamo avuto tante occasioni di parlare di memoria e in tanti casi abbiamo avuto preoccupazione per quello che è appunto il ricordo, la cultura del ricordo, potremmo dire, nel nostro paese e in Europa. Perché se da un lato siamo tutti ancora pieni di rispetto verso, per esempio, i testimoni che sono rimasti, penso a Liliana Segre, e se tutti ancora rimaniamo davvero sconvolti di fronte al senso profondo di quello che è accaduto con la Shoah e con l'Olocausto, assistiamo anche però a tanta banalizzazione, a tanta rimozione e anche, in qualche modo, la tentazione di normalizzare. Naturalmente c'è anche invece presente un negazionismo diffuso, una stanchezza quando si parla di Olocausto, di Shoah. Ecco, io penso che chi è presente a questo convegno invece sa bene che la Shoah è un evento fondatore della realtà europea, da lì abbiamo detto mai più e l'abbiamo detto senza retorica, a volte, anzi, appunto, con un senso di forte spinta a costruire il futuro, soprattutto per i più giovani. Io credo che riflettere oggi su Viktor Frankl e su Primo Levi, un bellissimo accostamento, voglia dire proprio questo, cioè cercare il senso profondo di quello che è accaduto e anche come alcuni abbiano saputo passare attraverso questo evento senza precedenti, che è l'Olocausto, resistendo, con una resilienza, diremmo oggi, che insegna molto, che insegna molto. Frankl e Primo Levi sono riusciti a restare uomini, sono riusciti a restare uomini nel lager e anzi hanno trovato, in qualche modo, nel non senso della distruzione degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale, un senso al loro futuro, in modi molto diversi. Naturalmente sappiamo la sofferenza e anche la fine di Primo Levi, sappiamo invece il messaggio di Frankl, ma accostarli è molto importante perché ambedue appunto hanno, come dire, interpretato il male e il bene anche, in qualche modo, del lager, in modo del tutto personale e originale. scriveva Todorov nella prefazione al libro I sommersi e i salvati di Primo Levi «La semplice memoria del male non è sufficiente a prevenirne il ritorno. Bisogna che il richiamo del male sia sempre accompagnato da un'interpretazione e da istruzioni per l'uso». Ecco, io credo che questi due grandi, grandissimi uomini che hanno attraversato appunto la Shoah ci abbiano lasciato, in qualche modo, delle istruzioni di cui noi spero faremmo buon uso. Grazie e buon proseguimento di convegno. Grazie per queste parole che ci introducono già al senso di questa mattina, dell'incontro di questa mattina. La memoria è un'operazione, abbiamo sentito, collettiva che ci riguarda tutti e quindi mi fa piacere che anche le istituzioni, in particolare della città di Piacenza, si siano strette insieme a noi in questa operazione. Allora, la parola a Sua Eccellenza il prefetto di Piacenza, la dottoressa Daniela Lupo, che ringrazio tra l'altro perché ha caldeggiato, insomma, la costruzione di questa iniziativa. Un saluto a tutti coloro che partecipano a questo evento e a voi studenti in particolare un invito. Non dimenticate. La giornata della memoria così non sarà mai uno stanco rito. Come ha detto il Presidente della Repubblica, la Shoah, per il suo carattere unico e terribile, trascende la dimensione storica del suo tempo e diventa monito perenne e lezione universale. Le leggi razziali, in Germania come in Italia, negavano agli ebrei, ai rom, ai disabili e ai diversi l'istruzione, l'affettività, il lavoro, la cittadinanza, i diritti. Negavano l'umanità per poi sopprimere. Negavano l'uguaglianza in nome dell'omologazione. E spesso nell'indifferenza di tanti. Quell'indifferenza definita dal nostro Presidente è l'anticamera delle barbarie e dalla senatrice Liliana Segre stigmatizzata come la più grave della violenza. La memoria è la bussola che ci orienta nella realtà che viviamo. Non è memoria la ripetizione di fatti e nomi. È memoria la riflessione sulle cause del male assoluto. Prima dei lager, delle camere a gas, ci sono state le menzogne, la trasformazione di donne, uomini, nemici da temere ed odiare perché presentati come causa di ogni disagio. Le menzogne hanno trasformato un popolo fugale e lavoratore in una massa di aguzzini. Così è stata possibile la Shoah, la disumanizzazione del diverso. La menzogna uccide la convivenza civile e la democrazia, e lo abbiamo appena visto con l'assalto al Campidoglio degli USA per le false accuse di brogli elettorali e nel nostro Paese, con il recente smantellamento di una rete di persone che ancora oggi stigavano a delinquere per motivi di discriminazione razziale e di genere. hanno reagito alle istituzioni democratiche con tutta la forza della legalità, così come reagirono e reagiscono oggi come ieri i tanti eroi, i giusti delle nazioni, definiti piccole fiaccole di luce e speranza che hanno rischiarato una notte di tenebro. La nostra Costituzione e la Carta dei diritti dell'uomo hanno posto al centro la dignità di ogni persona, l'inviolabilità dei suoi diritti fondamentali e il dovere di porre dei limiti al potere assoluto. La giornata della memoria sia sempre monito a fornire ai giovani la migliore istruzione e alla società strumenti di informazione corretta e pluralista, i migliori vaccini contro le menzogne incontro. Grazie. Parole importanti. Credo che il senso della giornata della memoria sia proprio in questo, no? Anzitutto nel capire, capire perché sono successe queste cose e se possono ancora succedere, a quali condizioni, ma anche capire come le persone le hanno attraversate, come siamo giunti fino a noi nonostante tutto quel male. E allora mi viene in mente che questo è un giorno della memoria particolare, questo è l'anno della pandemia, con le restrizioni, le incertezze, le sofferenze, anche i lutti che abbiamo vissuto. E quindi è certamente un anno insolito. Allora abbiamo voluto celebrare questa ricorrenza interrogandoci sulle situazioni critiche, anche estreme appunto, che a volte ci tocca vivere, per capire che cosa si può imparare da queste situazioni e soprattutto con quali risorse alcune persone le hanno saputo attraversare e affrontare. E allora abbiamo scelto questi due autori, è stato già anticipato, Primo Levi e Victor Frankl, Se questo è un uomo e uno psicologo nei lager, non solo per segnalarvi due grandi documenti dell'umanità, due libri che tutti dovrebbero leggere e se non lo avete fatto, forse vi verrà voglia di farlo, ma perché questi due libri hanno una caratteristica che li accomuna. Sono due libri che non ci raccontano semplicemente a che cosa erano sottoposte le persone che venivano deportate, e cioè che cosa accadeva esteriormente loro in quei luoghi terribili. Ma soprattutto ci aiutano a capire che cosa accadeva alle persone interiormente, cioè a livello psicologico, morale, spirituale. Ascolteremo quindi stralci che abbiamo selezionato in parallelo, tratti appunto da questi due resoconti della deportazione. Gli stralci tratti da Primo Levi saranno letti da Alessandro Bolognesi, che è un nostro studente della laurea magistrale in progettazione pedagogica nei servizi per minori. E gli stralci tratti da Vittor Frankl, uno psicologo nei lager, saranno letti da Francesca Bassoli, studentessa del corso di laurea in scienze dell'educazione e della formazione, che ringrazio per la loro collaborazione. Sono due racconti, come vedremo, che all'inizio sembrano assolutamente coincidenti, raccontano quasi le stesse cose e con la stessa enfasi. Il treno, l'approdo, la stazione, il binario, la prima selezione, la spogliazione di tutto, il tatuaggio, ecco, la progressiva sottrazione di tutto ciò che rappresentava l'identità personale, che era una spogliazione che era iniziata molto prima. Anna Arendt ce lo dice molto bene e ce lo ha ricordato il prefetto. Nel momento in cui si incominciano a togliere dei diritti alle persone, le si rende meno persone. Ecco, poi questi due racconti però si discostano progressivamente, lo ascolteremo. Incominciano questi due personaggi, questi due testimoni, ad assumere un atteggiamento diverso rispetto a quello che stanno vivendo. Il primo, Primo Levi, progressivamente sente scivolare via la speranza, la fiducia nel futuro, la voglia di vivere. e anche dopo la liberazione vedremo come rimase quasi intrappolato, potremmo dire, dentro questo grande dolore, questo male assoluto che ha dovuto sperimentare. L'altro invece, Victor Frankl, trova ancora prigioniero delle risorse dentro di sé, cerca di proteggere la sua interiorità e di trovare delle strategie per resistere e per aiutare gli altri compagni di sventura a resistere. E quindi cerca di non perdere la sua dignità, la sua libertà interiore, la sua fiducia nel futuro e il suo amore per la vita. Cosicché poi il messaggio che questi due testimoni ci lasciano è molto diverso, forse complementare, ma ugualmente importante per capire questa tragica pagina della nostra storia. ma lascio a Caterina Frustagli, una nostra collega del Dipartimento di Italianistica e Comparatistica, che è una attenta studiosa di Primo Levi, il compito di introdurci, anche se tramite soltanto qualche flash, a questo grande testimone. Grazie. Buongiorno a tutti e grazie, ringrazio molto il professor Bruzzone di questo invito, di cui sono onorata. Mi sembra molto bello e importante condividere con degli studenti questa esperienza di riflessione che, come hanno detto le persone che ci hanno preceduto in questa diretta, è un'esperienza che va sempre rinnovata. La memoria non è mai semplicemente una ripetizione stanca di qualcosa che viene svuotato del proprio senso, altrimenti appunto non ha senso. E quindi è importante continuamente interrogarsi, interrogarsi su queste esperienze che così generosamente i testimoni sopravvissuti alla Shoah, all'Olocausto, hanno condiviso. Allora, io partirei appunto proprio mostrandovi anche sentirete la mia voce e vedrete appunto delle slide che vi permettono proprio di vedere anche visivamente, insomma, seguire anche visivamente il mio discorso. Allora, Primo Levi, appunto, chimico, testimone, scrittore, si presenta proprio come così, proprio come nella sua triplice veste, è stato un chimico tutta la vita, di formazione, di professione, e poi appunto ha incontrato le leggi razziali, no, che avevano nominato il prefetto ed è diventato, ha vissuto l'esperienza purtroppo dei campi di concentramento e diventato quindi testimone, attivo testimone della propria esperienza e scrittore. Di solito noi quando pensiamo appunto a Primo Levi abbiamo in mente questa sua immagine, quella che vedete, cioè quello di un uomo di una certa età con la barba, i capelli bianchi, gli occhiali, quindi abbiamo in mente appunto questo tipo di immagine, ma è su questa che io vi voglio invece far concentrare l'attenzione, portare la vostra attenzione, perché qui vedete un Primo Levi invece molto giovane ed è un Primo Levi che ha poco più dell'età della media dei ragazzi che ci stanno ascoltando in questo momento. Allora mi piace soffermarmi su una parte della vita di Primo Levi che viene di solito meno indagata perché appunto poi ci si concentra invece sulla sua attività di testimone scrittore. Allora Primo Levi nasce nel 1919 da una famiglia borghese, quindi torinese, di tradizione ebraica, ebraica sefardita e studia come molti di noi va appunto alle scuole superiori della sua città, studia in questo liceo d'Azelio che era un famoso e rinomato liceo di Torino e questa questa esperienza quindi questi studi umanistici saranno davvero utili in un secondo momento proprio nella sua attività di testimonianza e di scrittura. Si definisce Primo Levi proprio come un adolescente molto inibito, molto timido, parla della sua timidezza come un grosso fardello che gli è pesato per molto tempo nella sua esperienza appunto da ragazzo quindi pensate faccio proprio così no mi rivolgo proprio ai ragazzi quindi pensate come noi di solito ci definiamo come a noi pensiamo a noi stessi e poi come la vita ci scombina i piani perché Primo Levi è diventato poi un testimone famoso in tutto il mondo la sua opera Omnia che è un'opera che va molto al di là della narrativa di testimonianza perché Primo Levi è scritto anche di poesia è stato un saggista è stato uno scrittore di fantascienza la sua opera Omnia dicevo è stata tradotta interamente in inglese tanto è stata riconosciuta l'importanza della sua riflessione qui vediamo appunto un ragazzo è un ragazzo che a un certo punto della sua vita incontra le leggi razziali quindi immaginate che cosa può succedere nella vita di un giovane che finisce appunto nelle scuole superiori e poi si iscrive alla facoltà di chimica dove è un brillante studente quindi è una persona che ottiene ottimi risultati ha proprio trovato un corso di studi che fa per lui ma appunto nel 38 entrano in vigore le leggi razziali quindi le leggi a tutela della razza sapete quanto siano assolutamente controverse e assolutamente ormai scartatano il concetto di razza beh Primo Levi incontra dicevo queste leggi e che cosa succede nella sua vita di studente succede che nonostante sia brillante non riesca a trovare un docente che lo faccia laureare cioè che gli affidi una tesi di laurea sapete che quando ci si laurea si va a chiedere ai vari docenti di solito a un docente che insegna una materia che ci interessa particolarmente di fare la tesi di laurea nonostante lui sia apprezzato come studente non trova fa molta fatica a trovare qualcuno che lo faccia che gli affidi una tesi alla fine ci riesce si laurea e c'è un brano bellissimo che vi invito ad andare a cercare proprio in un'opera di Primo Levi che si intitola Il sistema periodico in cui Primo Levi racconta proprio che a un certo punto lui si laurea e ha nel cassetto lui dice una pergamena ancipite cioè un certificato ambivalente perché perché è un certificato che dice Primo Levi di razza ebraica si è laureato col massimo dei voti in chimica presso l'Università di Torino quindi pensate a quando voi prenderete il diploma o quando prenderete la laurea pensate che cosa possa voler dire leggere su una pergamena su un attestato che è costato tanti sacrifici tante ore di studio sentirsi in qualche modo stigmatizzato ghettizzato indicato come colpevole di qualcosa che evidentemente non è una colpa perché è come dire appunto sono colpevole perché sono mancino perché sono musulmano appunto perché porto gli occhiali eccetera eccetera Primo Levi si laurea riesce a ottenere anche a fatica un lavoro come chimico e questo lo porta chiaramente a nutrire immaginate una grossa insoddisfazione e una grossa frustrazione ed è per questo che arriva a vivere l'esperienza partigiana arriva a vivere e quindi a ribellarsi e viene catturato poi in Val d'Aosta insieme in seguito a una retata e quindi insieme ad altri compagni finirà nel campo di Fossoli e da lì poi deportato ad Auschwitz in un campo satellite che è Bruno Ammonovitz che è un campo satellite di Auschwitz dove con una serie di circostanze attraverso una serie di circostanze fortuite riuscirà a sopravvivere quindi sarà uno dei pochi a riuscire a sopravvivere e a raccontare questa esperienza appunto nel suo primo libro che è appunto Se questo è un uomo è un libro che appunto poi è diventato famoso in tutto il mondo e anche questo vi voglio dire perché è una cosa molto singolare Se questo è un uomo ha una vicenda editoriale molto complessa venne scartato da Einaudi e e venne pubblicato in prima istanza da una piccola casa editrice molto lungimirante dove appunto avevano in effetti capito quale fosse il valore di questo tipo di testimonianza verrà recuperato in un secondo momento e poi quindi verrà poi dopo edito da Einaudi diventerà poi il successo mondiale che conosciamo che viene letto e tradotto in non so quante lingue del mondo Primo Levi poi ritornerà a Torino e racconterà di questa sua esperienza anche dell'esperienza del viaggio di ritorno che è un'esperienza molto bella e molto ricca in cui lui riacquisterà proprio attraverso il viaggio di ritorno la propria identità di uomo e la racconterà nella sua opera invece del 63 che è La Tregua si intitola La Tregua e tornerà a una vita che evidentemente è una vita diversa completamente stravolta quindi con tutto il carico emotivo del sopravvissuto sapete che è stato scritto molto sul senso di colpa del sopravvissuto e del senso di responsabilità rispetto ai compagni di deportazione che non ce l'hanno fatta per tutta la vita si occuperà di chimica lavorerà in una fabbrica di vernici dove diventerà un dirigente e allo stesso tempo però inizierà la sua grande opera di testimonianza e anche l'opera poi di scrittura che è un'opera poi che diventerà davvero molto molto feconda è una un'opera molto importante Primo Levi ha testimoniato moltissimo nelle scuole perché credeva davvero che dovesse essere un compito di chi è sopravvissuto testimoniare per chi non ce l'ha fatta per chi appunto lui diceva ha visto la gorgone ha visto medusa quindi riprendeva queste immagini mitologiche molto potenti per dire che veri testimoni sono quelli che non ce l'hanno fatta sono quelli che non sono tornati e allora noi abbiamo assolutamente la necessità e l'obbligo di raccontare e mettere in parola la loro storia la morte arrivo poi alla morte di Primo Levi a morte di Primo Levi è stato trovato in fondo alla tromba delle scale vi faccio vedere anche poi velocemente le altre slide sulla tromba delle scale della sua casa di Torino la morte è una morte molto controversa resta però il suicidio l'ipotesi più accreditata fu ovviamente immaginate una morte avvenuta appunto nell'87 nel 1987 una morte molto molto che colpì molto che colpì molto proprio per l'opera di testimonianza che Primo Levi aveva svolto tutta la vita tutta la vita Primo Levi appunto vedete qui in questo slide si era fatto una famiglia aveva un lavoro appunto aveva riscosso anche molto successo rispetto alla propria produzione anche letteraria iniziava a riscuotere molto successo e e quindi molte persone io stessa devo dire faccio molta fatica ad accettare questa fine della vita di Primo Levi si fa molta fatica ma io credo che quello che sia quello che è importante è davvero continuare a valorizzare questa grande opera opera di testimonianza un'opera formativa un'opera che sicuramente a tutti i testimoni questo non solo a Primo Levi anche a Vittor Flan che Liliana Segre ne parla sempre Samy Modiano tutti i grandi testimoni Nedo Fiano che è il primo che io ho sentito in una scuola superiore nella mia scuola superiore è una la testimonianza è sempre la testimonianza di un dolore e testimoniare è anche doloroso molto doloroso e quindi io credo che noi abbiamo adesso noi un debito rispetto a chi ha di nuovo affrontato quel dolore per condividerci in modo generoso la propria esperienza grazie adesso sentiremo i brani grazie chi era invece Vittor Frankl Vittor Frankl era uno psichiatra forse il più noto degli psichiatri sopravvissuti ai lager non l'unico ad esempio un altro psicologo famoso è Bruno Bettelheim che ha anche scritto su questa esperienza di deportazione ecco qual è la caratteristica però del racconto di Frankl? è che ci descrive appunto da psicologo le reazioni soggettive personali alla deportazione e poi alla prigionia e quindi è interessato a raccontarci come dicevo non solo gli accadimenti le torture le violenze a cui erano sottoposte le persone ma anche il modo in cui ciascuna di queste persone stava riusciva a star dentro a questa situazione in particolare ci ha aiutato a capire da un lato come le persone potessero essere annientate psicologicamente prima che fisicamente ma anche come alcune persone invece potessero resistere questo è l'elemento più interessante ora se dovessimo diciamo riepilogare la vicenda di Frankl lo potremmo fare articolandola in tre fasi ecco la prima è questa il secondo distretto di Vienna Leopoldstadt dove Frankl è nato ed è vissuto fino alla deportazione nel 1942 Leopoldstadt era il quartiere ebraico della città voi dovete pensare che all'inizio della seconda guerra mondiale a Vienna risiedevano circa 200.000 ebrei ne rimasero dopo la guerra meno di 12.000 Frankl era allora un giovane medico che era stato in contatto da giovanissimo con il dottor Freud e che quindi si era interessato alla psicoterapia dopo la annessione dell'Austria nel 1938 aveva incominciato a lavorare in un ospedale ebraico per pazienti ebrei il Rothschild qui vedete nelle foto Frankl con la famiglia la sorella Stella il fratello Walter e i genitori Elsa e Gabriel e poi Victor con Tilly la prima moglie pensate che il matrimonio tra Victor e Tilly celebrato nel 41 è stato l'ultimo prima che l'ufficio di stato civile del quartiere di Leopoldstadt venisse chiuso e quindi fosse impedito di fatto alle coppie di razza ebrea di sposarsi ecco perché ho messo queste foto perché nessuna di queste persone tornerà dalla deportazione ad eccezione di Stella che si era salvata emigrando in Australia tutti gli altri non fecero più ritorno Victor Frankl viene deportato nell'autunno del 42 insieme al fratello e ai genitori alla prima moglie inizialmente vengono deportati a Theresienstadt a Theresien questo campo Bohemia vicino a Praga forse qualcuno di voi lo ha conosciuto c'è stato e dopo sono seguiti altri tre campi tra cui appunto il famigerato campo di sterminio di Auschwitz e Turcaim e Kaufer in terzo che sono delle dipendenze di Dachau ecco quattro campi di concentramento tra il 42 e il 45 questa è la seconda fase potremmo dire della sua vicenda già prima della guerra Frankl aveva intuito che le persone erano guidate da un bisogno fondamentale cioè il bisogno di trovare un significato nella vita un senso uno scopo per cui vivere e che chi perdeva invece la percezione di questo significato si ammalava in qualche modo ecco la deportazione è stata per Frankl l'experimentum crucis potremmo dire cioè la prova sperimentale attraverso la quale lui ha compreso la correttezza di questa sua intuizione perché proprio in quella situazione estrema riusciva a resistere soltanto chi aveva ancora chiaro uno scopo per cui vivere un orientamento verso il futuro qualcosa o qualcuno per cui valesse la pena di resistere e di soffrire e lo diceva spesso con queste parole di Nietzsche che vi ho riportato qui chi ha un perché nella vita può sopportare quasi tutti i come cioè chi ha uno scopo può attraversare anche le situazioni più difficili e la terza fase incomincia naturalmente con la liberazione Frankl rientra a Vienna nell'aprile del 45 e lì lo attende il dolore più grande cioè quello di venire a sapere di essere rimasto completamente solo allora scrive in sette giorni febbrilmente il libro che lo avrebbe reso famoso in tutto il mondo è stato una specie di atto di liberazione no di confessione ha scritto questo libro che vedete nella prima edizione in tedesco si chiamava uno psicologo nei lager ma potete notare dalla copertina era uscito anonimo Frankl non lo aveva scritto per sé o per diventare famoso tra l'altro questo libro non vendette molte copie all'inizio perché subito dopo la guerra nessuno voleva ricordare anzitutto nessuno voleva raccontare Frankl è stato probabilmente uno dei primi ma nessuno voleva rimanere ancorato al passato tutti volevano rivolgersi al futuro alla ricostruzione ad un mondo diverso e allora questo libro viene ripubblicato con un altro titolo che suonava in tedesco nonostante tutto dire sì alla vita e guardate con questo titolo più rivolto al futuro alla speranza alla fiducia nella vita questo libro diventa un best seller soprattutto poi con l'edizione americana Man's Search for Meaning l'uomo in cerca di senso che abbiamo tradotto anche in italiano questo libro ha venduto oltre 12 milioni di coppie solo negli Stati Uniti perché è un grande inno alla resilienza come è stato detto alla forza di resistenza dello spirito la chiamava Frankl per cui diceva tutto può essere tolto a un uomo ad eccezione di una cosa l'ultima delle libertà umane poter scegliere il proprio atteggiamento in ogni determinata situazione anche se solo per pochi secondi cioè anche nell'estrema sottrazione di qualunque possibilità di scegliere di dar forma al proprio destino Frankl crede che l'essere umano abbia ancora una libertà interiore di decidere di sé e e allora Frankl poi diventa progressivamente quello che per cui è ricordato in tutto il mondo cioè un testimone del fatto che non solo nella deportazione nei campi di concentramento ma in tutte le situazioni difficili della vita la malattia la sofferenza la solitudine la vecchiaia il lutto ecco in tutte le situazioni difficili sia possibile trovare uno scopo un senso per cui vivere Frankl lo vedete nelle foto diventa il primario della neurologia della psichiatria nel policlinico di Vienna fino al 1975 quindi per 25 anni pubblica i suoi libri più importanti che lo rendono famoso in tutto il mondo lo vedete qui in una foto in uno dei suoi primi viaggi negli Stati Uniti viene insinito pensate di 29 lauree honoris causa dalle università di tutto il mondo di tutti i continenti e credo ci siano state tre cose che hanno salvato quest'uomo che aveva perso tutto dalla disperazione la prima è stata appunto il lavoro la volontà di dare un suo contributo di diffondere il suo pensiero la seconda lo vedete qui in una foto bellissima è stata Ellie la seconda moglie di Franklin che lui ha incontrato e ha sposato dopo la liberazione e che tuttora vive a Vienna ed è una donna simpaticissima e piena di vita e poi la passione per la montagna lo vedete qui in una bella foto in cui scala una vetta pensate che Franklin aveva voluto distinguere il suo approccio quello che si chiama della logoterapia cioè la terapia per cercare appunto un significato nella vita l'aveva voluto distinguere dalla psicanalisi che veniva chiamata la psicologia del profondo dello scavo mentre la sua la chiamava la psicologia dell'altezza cioè una psicologia che ci fa prendere coscienza delle dimensioni più alte del nostro spirito e quindi l'eredità di Franklin è questa in una intervista prima di pochi mesi prima di morire nel 97 Franklin aveva detto che aveva trovato il senso della sua vita nell'aiutare gli altri a trovare un senso nella loro vita e questo è anche un po' l'essenza del suo messaggio è possibile trovare un senso alla vita sempre e nonostante tutto ora voi avete visto nella locandina l'immagine tradizionale quella del binario che arriva ad Auschwitz ebbene il nostro racconto parte da lì parte da questo binario che conduce al campo di concentramento perché sia Primo Levi sia Viktor Frankl incominciano a raccontare la loro odissea da quel binario questo approdo che è stato per innumerevoli vittime della Shoah un tragico capolinea dal quale poi non sono mai più tornate ascoltiamo Alessandro adesso ci introduce il testo di Primo Levi e Francesca seguirà con i brani tratti da Viktor Frankl prego i vagoni erano 12 e noi 650 nel mio vagone eravamo 45 soltanto ma era un vagone piccolo ecco dunque sotto i nostri occhi sotto i nostri piedi una delle famose tradotte tedesche quelle del non ritorno quelle di cui fremendo e sempre un poco increduli avevamo così spesso sentito narrare proprio così punto per punto vagoni merci chiusi dall'esterno e dentro uomini donne e bambini compressi senza pietà come merce di dozzina in viaggio verso il nulla in viaggio all'ingiù verso il fondo questa volta dentro siamo noi gli sportelli erano stati chiusi subito ma il treno non si mosse che a sera avevamo appreso con sollievo alla nostra destinazione Auschwitz un nome privo di significato allora e per noi ma doveva pur corrispondere a un luogo di questa terra il treno viaggiava lentamente con lunghe soste snervanti Francesca Francesca prego tutti credevano che il convoglio fosse destinato a una fabbrica di armi e munizioni nella quale saremmo stati costretti a lavorare il treno si ferma a quanto pare in aperta campagna non sappiamo bene se ci troviamo ancora nella Slesia o in Polonia il fischio stridulo della locomotiva risuona a sinistro penetrante come un grido di aiuto denso di presagi come se la locomotiva personificasse la massa d'uomini che sta conducendo a una grande distanza il treno comincia a far manovra dobbiamo essere ad una stazione abbastanza importante improvvisamente dalla piccola folla rinchiusa nel vagone in timorosa attesa si alza un grido qui c'è un cartello Auschwitz ognuno di noi sente il cuore fermarsi Auschwitz era un concetto l'incarnazione di idee confuse e per questo ancora più terribili di camere a gas crematori e assassini in massa il treno si muove lentamente quasi esitando come se volesse porre gradualmente con delicatezza la merce umana che trasporta di fronte alla verità Auschwitz ora si vede meglio nella luce dell'alba fiorano per chilometri chilometri a destra e a sinistra delle rotaie i contorni di un campo mostruosamente grande doppie tripli recinti di filo spinato si estendono senza fine torri di controllo riflettori e lunghe colonne di figure umane vestite di brandelli grigie nel grigiore dell'alba si trascinano lentamente stanche lungo le desolate strade di campagna nessuno sa verso dove qua e là sentiamo alcuni fischi di comando nessuno sa il perché qualcuno di noi ha già orrende visioni a me parve per esempio di intravedere alcune forche dalle quali penzolavano cadaveri d'impiccati mi sentii inorridire e fu bene tutti noi dovevamo essere portati al grande orrore attimo dopo attimo passo per passo finalmente entriamo nella stazione venne a un tratto lo scioglimento la portiera fu aperta con fragore il buio e cheggiò di ordini stranieri e di quei barbarici le attrati dei tedeschi quando comandano che sembrano dar vento a una rabbia vecchia di secoli ci apparve una vasta banchina illuminata da riflettori poco oltre una fila di autocarri poi tutto tacque di nuovo qualcuno tradusse bisognava scendere coi bagagli e depositare questi lungo il treno in un momento la banchina fu brulicante di ombre ma avevamo paura di rompere quel silenzio tutti si affaccendavano intorno ai bagagli si cercavano si chiamavano null'altro ma timidamente a mezza voce una decina di SS stavano in disparte l'aria indifferente piantate a gambe larghe ad un certo momento penetrarono fra di noi e con voce sommessa con visi di pietra peresero a interrogarci rapidamente uno per uno in cattivo italiano non interrogavano tutti solo qualcuno quanti anni hai? sano o malato? e in base alla risposta ci indicavano due diverse direzioni tutto era silenzioso come in un acquario di nuovo quei comandi urlati da voci rauche siamo spinti con percosse di corsa nel locale vicino che è poi la vera anticamera delle docce ci troviamo in un atrio in mezzo al quale una SS attende di vederci tutti riuniti prima di parlare vi lascio due minuti controllo sul mio orologio in questi due minuti dovete spogliarvi completamente gettate tutto a terra dove vi trovate non potete portare nulla con voi tranne le scarpe la cintura e le bretelle un paio d'occhiali e tutt'al più il cintorniario cronometro i due minuti via con una furia incredibile la nostra gente si strappa i panni di dosso mentre il tempo concesso sta per scadere i prigionieri si affannano sempre più nervosi e inetti intorno a capi di vestiario e biancheria fettucce e cinture si cominciano a sentire i primi schiocchi nervi di bue colpiscono corpi nudi poi ci spingono in un altro locale siamo rasati e non solo sul cranio su tutto il corpo non ci resta più nemmeno un pelo ci trascinano poi nelle docce ci mettono in formazione quasi non ci riconosciamo più tra di noi ma ognuno di noi constata con enorme gioia e sollievo che dagli imbuti della doccia cadono veramente gocce d'acqua mentre continuiamo ad attendere la nostra nudità ci diventa familiare non abbiamo nient'altro soltanto questo corpo nudo non ci resta nulla tranne questa nostra esistenza letteralmente nuda nulla più è nostro ci hanno tolto gli abiti le scarpe anche i capelli se parleremo non ci ascolteranno e se ci ascoltassero non ci capirebbero ci toglieranno anche il nome e se vorremmo conservarlo dovremmo trovare in noi la forza di farlo di fare sì che dietro al nome qualcosa ancora di noi di noi quali eravamo rimanga il mio nome è 174517 siamo stati battezzati porteremo finché vivremo il marchio tatuato sul braccio sinistro l'operazione è stata lievemente dolorosa e straordinariamente rapida pare che questa sia l'iniziazione vera e propria solo mostrando il numero si riceve il pane e la zuppa sono corsi vari giorni e molti schiaffi e pugni perché ci abituassimo a mostrare il numero prontamente in modo da non intralciare le quotidiane operazioni di distribuzione ci sono volute settimane e mesi perché ne apprendessimo il suono in lingua tedesca allora quello che abbiamo sentito e quindi ringrazio i ragazzi per averlo letto così bene è proprio l'arrivo al campo che è un racconto è un contenuto che ritorna in tantissimi ovviamente immaginerete racconti di sopravvissuti i tratti ci sono proprio dei tratti che ritornano e che ritornano quindi anche sono ben rappresentati anche da Primo Levi e da Frankel intanto il grosso disorientamento l'effetto che fa ai testimoni quindi che in quel caso in quel momento sono deportati l'arrivo proprio in un inferno dantesco in una dimensione inimmaginabile fino a qualche giorno prima quindi quello che loro provano è ovviamente disorientamento e angoscia e noi assistiamo ce lo fanno vedere bene questi racconti a proprio a una distruzione sistematica dell'identità della personalità i deportati diventano dei pezzi stuche il termine tedesco che li indica c'è una progressiva opera di bestializzazione in atto quindi l'identità che è un processo che noi ci costruiamo in tanti anni cioè in tanti anni noi impariamo chi siamo veramente e questo avviene attraverso una logica molto sofisticata di processi psicologici educativi relazionali sociali in pochi giorni all'interno del campo tutto quel processo e quella stratificazione che porta alla costruzione dell'identità dei detenuti viene annullata e viene annullata completamente proprio per spogliazione ritorna spesso questa immagine che è ovviamente un'immagine che ci colpisce anche visivamente di corpi nudi quindi pensate se noi improvvisamente ci trovassimo senza la possibilità di coprirci con pudore di fronte a degli sconosciuti con un numero tatuato rasati provate a immaginare anche per le donne che cosa significa essere rasate e che cosa significa essere esposte alla nudità è tragico sia per un uomo che per una donna ma assume dei significati diversi e quello che anche questi ebrani evidenzano molto bene è la perdita della lingua madre cioè la confusione delle lingue a cui sono esposti i deportati i deportati perdono per prima cosa la possibilità di orientarsi attraverso la lingua e notate bene che la lingua la nostra lingua madre è quella attraverso cui noi appunto ci definiamo noi pensiamo noi stessi organizziamo i nostri pensieri attraverso la nostra lingua madre i deportati vengono invece appunto costretti a spogliarsi di tutto e a subire le istruzioni proprio latrate pensate che verbi vengono usati latrate gridate in questa lingua che sembra proprio c'è un punto in cui viene definita anche infera proprio una lingua che non sembra più neanche umana perché è una lingua d'odio ed è una lingua che serve allo svilimento sistematico dell'altro perdere la propria lingua è l'ennesimo l'ennesima perdita che che contribuisce alla perdita appunto dell'identità del senso di sé degli altri e ha un senso più generale proprio esistenziale è proprio difficile immaginarsi come degli uomini ridotti in quelle condizioni possano in qualche modo mantenere davvero un attaccamento alla vita perché le condizioni sono davvero delle condizioni feroci per qualche tempo l'internato resta nel primo stadio di shock poi scivolano nel secondo stadio quello della relativa apatia poco a poco muore internamente eccezion fatta per le diverse reazioni affettive il prigioniero è giunto nel lager da pochi giorni subisce in modo tormentoso anche altri turbamenti psichici e presto comincia a ucciderli nel suo animo vi è innanzitutto la sconfinata nostalgia per la gente di casa una nostalgia che talvolta si fa così acuta da suscitare un solo desiderio morire i prigionieri pertanto fanno rapidi progressi nel soffocare le proprie emozioni nei primi giorni quando uno è chiamato ad assistere agli esercizi punitivi di qualche gruppo cerca di non guardare non sopporta ancora la vista di uomini sadicamente torturati la vista di compagni che per ore e ore devono fare piegamenti nella melma mentre gli aguzzini battono il ritmo a furia di botte giorni o settimane più tardi il suo animo è profondamente mutato accade questo per esempio uno è morto da poco guardo come tutti i compagni uno dopo l'altro si avvicinano al cadavere ancora tiepido uno arraffa le patate avanzate dal pranzo un altro scopre che gli zoccoli del morto sono meno brutti dei suoi e li scambia un terzo fa lo stesso con la giacca del morto un quarto è felice di trovare dello spago pensate dello spago vero apatico assisto alla scena devo confessarlo dopo una sola settimana di prigionia in me l'istinto della pulizia è sparito mi aggiro ciondolando per il lavatoio perché dovrei lavarmi stare forse meglio di quanto sto piacerei di più a qualcuno vivrei un giorno un'ora di più vivrei anzi di meno perché lavarsi un lavoro uno spreco di energia e di calore più ci penso e più mi pare che lavarsi la faccia nelle nostre condizioni sia una faccenda insulsa addirittura frivola un'abitudine meccanica o peggio una lucubre ripetizione di un rito estinto morremo tutti stiamo per morire avanziamo ora nell'oscurità inciampando sulle grandi pietre attraverso pozzanghere lunghe dei metri che costellano la strada d'accesso le sentinelle non smettono di urlare e ci spingono avanti con il calcio dei fucili chi ha i piedi coperti da troppe ferite si appoggia al braccio del vicino i cui piedi sono meno dolenti non parliamo quasi il gelido vento dell'alba lo sconsiglia la bocca nascosta dal bavero rialzato della giacca il compagno che cammina accanto a me sussurra ad un tratto tu se le nostre mogli ci vedessero ora spero che nei loro lager stiano meglio di noi vorrei che non sospettassero neppure che cosa ci succede improvvisamente ho di fronte l'immagine di mia moglie mentre inciampiamo per chilometri guardiamo la neve o scivoliamo su lastre ghiacciate sempre sorreggendoci a vicenda aiutandoci gli uni gli altri e trascinandoci avanti nessuno parla più ma sappiamo bene che in questi momenti ognuno di noi pensa a sua moglie di tanto in tanto guardo il cielo dove impallidiscono le stelle o là dove comincia l'alba dietro una scura cortina di nubi ma il mio spirito è ora tutto preso dalla figura che si racchiude nella mia fantasia straordinariamente accesa e della quale non ho mai avuto sentore prima nella vita normale parlo con mia moglie la sento rispondere la vedo sorridere dolcemente vedo il suo sguardo e corporeo o meno il suo sguardo brilla più del sole che si leva in questo momento d'un tratto un pensiero mi fa sussultare per la prima volta nella mia vita sperimento in me la verità che l'amore è in un certo senso il punto finale il più alto al quale l'essere umano possa innalzarsi ecco fermiamoci un istante anche in questo punto perché l'abbiamo ascoltato l'analisi delle reazioni psicologiche al trauma dei deportati inizia con quella fase di shock di cui ci ha parlato Caterina le persone stentano a credere a quello che sta accadendo e a volte cercano anche di negarlo ma la seconda fase è ancora più pericolosa è la fase dell'apatia è il meccanismo di difesa che mette in atto spesso chi è esposto a un dolore troppo grande o troppo prolungato però l'apatia porta con sé un pericolo cioè da un lato attutisce la sofferenza la sensibilità ma dall'altro conduce alla disperazione alla perdita di senso erano famosi i cosiddetti musulmen nei campi non perché fossero musulmani di religione ma per il loro atteggiamento la loro postura erano prigionieri stremati dal freddo diciamo fiaccati dalle malattie dalla fatica e anche rassegnati all'idea che potevano morire da un momento all'altro anche per un motivo futile per un capriccio e si aggiravano e si aggiravano nei campi quindi con il capochino come delle ombre come dei fantasmi privi di speranza e privi di volontà e invece sentite Franklin comincia a reperire dentro di sé e a alimentare quelle fiocche risorse che lo possono tenere in vita che possono evitare questo scivolamento nell'apatia che possono dargli ancora il desiderio di resistere magari anche solo per un istante e quindi utilizza diverse strategie il distacco intellettuale con cui osserva da psichiatra quello che sta accadendo l'immaginazione con cui si estranea dai momenti più tragici o anche l'umorismo qualche volta perché l'umorismo consente di distaccarsi per un istante da quello che si sta vivendo e queste risorse riflettono due capacità umane che secondo Franklin sono proprie delle persone l'autodistanziamento cioè la capacità di distaccarsi di osservarsi dall'esterno e l'autotrascendenza soprattutto cioè la capacità di rivolgersi a qualcosa che ci attende nel futuro qualcosa o qualcuno e infatti lo abbiamo ascoltato la risorsa più grande in quel momento ad esempio è l'amore certo lui non può sapere se sua moglie Tilli sia ancora viva di fatto forse non lo era già più ma questo era relativamente irrilevante perché è il suo ricordo è il dialogo con lei è lei che lo tiene in vita nei momenti più tragici perché come dice il cantico dei cantici più forte della morte è l'amore da molto tempo ho smesso di cercare di capire per quanto mi riguarda sono ormai così stanco di reggermi sul piede ferito e non ancora medicato così affamato e pieno di freddo che nulla più mi interessa questo può benissimo essere l'ultimo dei miei giorni e questa camera potrebbe essere la camera dei gas di cui tutti parlano che ci potrei fare tanto vale appoggiarsi al muro e chiudere gli occhi e aspettare eravamo grati al destino per ogni piccola paura risparmiata si era felici per esempio quando di sera potevamo toglierci i pidocchi prima di accucciarci operazione che non era certamente un piacere dato che dovevamo restare nudi nella baracca per lo più non riscaldata dal cui tetto pendevano spesso ghiaccioli all'interno in questo caso eravamo già contenti se non suonava per esempio l'allarme aereo e quindi se non ci sorprendeva l'oscuramento impedendo di completare la nostra caccia al pidocchio naturalmente tutte queste povere gioie della vita nel lager sono un esempio perfetto della felicità intesa nel senso negativo di Schopenhauer cioè come assenza del dolore le nostre gioie positive anch'esse insignificanti furono pochissime le 5 del mattino fuori è notte fonda giaccio sulle dure assi di una capanna di terra nella quale sono in riguardo con circa 70 compagni in altre parole ci hanno dichiarato malati non dobbiamo lasciare il lager per recarci a un lavoro esterno non dobbiamo neppure presentarci all'appello possiamo uziare per tutta la giornata nel piccolo spazio che ci ha riservato nella baracca sonnecchiare e aspettare che si distribuisca la razione di pane beninteso ridotta perché siamo malati in riguardo e la poca zuppa ancor più acquosa del solito una volta al giorno appositamente preparata per questa categoria e come siamo soddisfatti come siamo felici nonostante tutto la baracca di legno stipata di umanità dolente è piena di parole di ricordi sappiamo d'onde veniamo i ricordi del mondo di fuori popolano i nostri sogni e le nostre veglie ci accorgiamo con stupore che nulla abbiamo dimenticato ogni memoria evocata ci sorge davanti dolorosamente nitida ma dove andiamo non sappiamo potremmo forse sopravvivere alle malattie e sfuggire alle scelte forse anche resistere al lavoro e alla fame che ci consumano e dopo? noi abbiamo viaggiato fin qui nei vagoni piombati noi abbiamo visto partire verso il niente le nostre donne e i nostri bambini noi fatti schiavi abbiamo marciato cento volte avanti e indietro alla fatica muta spenti nell'anima prima che dalla morte anonima noi non ritorneremo chi non sa credere più nel futuro nel suo futuro in un campo di concentramento è perduto con il futuro perde anche il sostegno spirituale si lascia cadere interiormente ed ecade tanto nel fisico quanto nello spirito ogni tentativo di risollevare interiormente gli uomini rinchiusi in un campo di concentramento presuppone che si riesca a indirizzarli verso uno scopo nel futuro tutti gli sforzi dovrebbero obbedire a un motto espresso con grande chiarezza nelle parole di Nice chi ha un perché per vivere sopporta quasi ogni come si doveva dunque quando si presentava una buona occasione qualche volta qua e là chiarire agli internati il perché della loro vita per far sì che fossero interiormente all'altezza del terribile come del loro presente degli spaventi di una vita nel lager affinché potessero affrontare tutto con coraggio e viceversa guai a chi non trovava più uno scopo di vita non aveva un contenuto di vita non scorgeva nessuno scopo nella sua esistenza vaniva il significato del suo essere perdeva ogni senso anche la resistenza questa gente privata di ogni possibile sostegno si lasciò presso cadere allora questi passi invece che abbiamo letto adesso ci riportano a situazioni estreme anzi ancora più importante proprio mantenere cercare di mantenere vivo dentro di sé un senso un senso a quello che ci accade la vita abbiamo letto ma l'abbiamo visto anche in moltissimi film l'abbiamo sentito da moltissimi testimoni la vita nel campo è una vita assolutamente disumana dove il freddo ed è un freddo davvero agghiacciante proprio il freddo la fame la fatica l'umiliazione sono le costanti che si ripetono e sono costanti che davvero snerverebbero a chiunque i deportati che riescono a sopravvivere riescono a sopravvivere per tutta una serie di circostanze ma anche perché riescono in qualche modo a mantenersi attaccati alla vita è davvero molto difficile in una situazione di questo tipo proprio perché si fa fatica non c'è più uno adesso se voi andate a controllare proprio linguisticamente come sono espressi questi racconti questi racconti sono al presente perché perché il presente indicativo è proprio la lingua su cui si vive un trauma una situazione traumatica estrema tende a rivivere la ripetizione traumatica cioè come se fosse sempre dentro a quella situazione e ogni volta che la racconta la sua mente la ripete e la ripete chiaramente in modo feroce quindi quindi è quindi il presente serve proprio a insomma in qualche modo a non solo a esprimere no la traumatizzazione ma anche a portare il il lettore o colui ti ascolta proprio nell'universo concentrazione cioè a dargli proprio quella che noi chiamiamo la posizione di ante cioè sei lì e fai parte anche tu della narrazione cioè sei anche che tu testi adesso di nuovo e tu non te lo devi dimenticare quindi è molto bello riprendo sia quello che dice no Viktor Frankl citando luce chi ha un perché ha trova e può essere che muoia che può essere che non ce l'ha fatta ma non smette di cercare fino alla fine c'è un altro passo anche di primo levi in cui si riprende in modo simile questa idea del consenso che qui ne abbiamo letto una parte cioè un sergente che chiede a primo levi a un certo punto ma perché tu non ti lavi e primo levi risponde ovviamente a buon senso e dice non mi lavo perché che senso ha lavarsi in un campo di concentramento quando io non so se vivrò fino a domani e la risposta che riporta primo levi è proprio a molto a che vedere con quello che dice appunto anche Frankl cioè bisogna lavarsi dice bisogna avere trattare il proprio corpo con cura che almeno salvare l'impalcatura della civiltà e quindi mantenere dentro il senso dell'umanità che noi tutti abbiamo adesso leggiamo gli altri passi sembrava non dovesse mai finire invece finì con l'alba del 21 gennaio la pianura ci apparve deserta e rigida bianca aperta d'occhio sotto il volo dei corvi mortalmente triste avrei quasi preferito vedere ancora qualcosa in movimento pareva che perfino il vento si fosse attestato avrei desiderato una cosa soltanto restare a letto sotto le coperte abbandonarmi alla stanchezza totale di muscoli nervi e volontà aspettare che finisse o che non finisse era la stessa cosa come un morto noi giacevamo in un mondo di morti e di larve l'ultima traccia di civiltà era sparita intorno a noi e dentro di noi l'opera di bestializzazione intrapresa dai tedeschi trionfanti era stata portata a compimento dai tedeschi disfatti non ci restava che riaddormentarci poi un giorno qualche tempo dopo la liberazione cammini in aperta campagna per chilometri e chilometri attraverso prati fioriti fino alla borgata nelle vicinanze del lager all'odo le salzano in volo si librano in alto senti risuonare il loro canto e la loro gioia là in alto nello spazio infinito non c'è nessuno lì vicino intorno a te vi sono vasti campi e il cielo e il canto di gioia delle allodole e l'infinito allora non prosegui più in questo infinito ti fermi ti guardi intorno rivolgi gli occhi verso l'alto e cadi in ginocchio in quest'attimo non sai molto di te né del mondo senti in te una frase sola e sempre quella ripetuta dal profondo chiama il Signore ed egli mi rispose dai liberi spazi quanto tempo sei rimasto là in ginocchio quanto spesso hai ripetuto questa frase il ricordo non può dirlo ma in questo giorno in quest'ora è cominciata la tua nuova vita e tu lo sai passo dopo passo non altrimenti penetri in questa nuova vita rediventi uomo ecco avete ascoltato in questo ultimo brano la differenza tra questi due queste due testimonianze è molto chiara no? Primo Levi ha portato con sé una ferita profonda un guaribile una un vuoto di senso che lo ha tormentato per tutta la vita fino all'ultimo dei suoi giorni e Viktor Frankl invece paradossalmente ha tratto da questa esperienza uno slancio una nuova fiducia e un nuovo desiderio di vivere che in realtà lo ha accompagnato per tutti gli anni a venire ecco mi sono spesso chiesto come mai e credo che entrambi come tutti gli altri testimoni siano usciti da questa esperienza chiedendosi perché ma in questi due casi è un perché diverso da un lato abbiamo Primo Levi che si chiede perché ha potuto accadere tutto questo e lui stesso si dà una risposta qui dice non c'è nessun perché cioè non c'è nessuna risposta a questa domanda non c'è nessuna giustificazione che legittimi tutto quello che è stato compiuto Frankl esce dai campi chiedendosi un altro perché la sua domanda è perché sono sopravvissuto perché la vita mi è stata restituita nonostante tutto che cosa ne faccio di questa esistenza che mi è stata che mi è stata risparmiata allora vedete la differenza è che il primo perché non dipende da noi è un perché sulla presenza del male nella storia sulla malvagità di cui è capace l'essere umano il secondo perché invece dipende da noi dalle nostre scelte dal senso dalla direzione che vogliamo dare alla nostra vita prima Caterina si riferiva al senso di colpa dei sopravvissuti molti non hanno raccontato non solo perché nessuno gli voleva credere e nessuno voleva ascoltarli ma per molti anni non hanno raccontato perché si sentivano quasi in colpa per essere sopravvissuti ecco Frankl ci dice che questo senso di colpa si può trasformare in un senso di responsabilità mentre la colpa ci perseguita perché è legata al passato e non possiamo cambiarlo la responsabilità invece ci rende liberi ci libera perché ha a che fare col futuro con ciò che è ancora da venire da essere costruito e questo credo sia il vero senso del fare memoria vedete i nazisti cullavano un sogno un progetto assurdo e gigantesco se ci pensiamo loro volevano far scomparire dalla faccia della terra l'intero popolo ebraico e non solo come abbiamo ascoltato non solo gli ebrei negarne l'esistenza cancellarli dalla memoria farli dimenticare per sempre allora fare memoria significa contrastare quel delirio significa tra virgolette vendicare quei morti nel senso che noi facendo memoria gli ridiamo vita gli ridiamo voce come abbiamo ascoltato ma soprattutto fare memoria significa assumersi una responsabilità significa riconoscere ad esempio che quei semi di odio di antisemitismo di razzismo di xenofobia di discriminazione di tutti i generi sono ancora presenti nelle nostre società e quindi richiedono da parte nostra la capacità di riconoscerli e di contrastarli io lo dico sempre ai miei studenti e lo ripeto anche a voi difendere i diritti dei più deboli è il modo migliore per difendere i propri e se oggi noi non difendiamo i diritti di coloro che vengono emarginati esclusi o discriminati domani potrebbe non esserci chi difenderà i nostri ecco forse la responsabilità della memoria riguarda non soltanto il non dimenticare il passato ma appunto l'impegnarsi perché il futuro e i valori di democrazia di libertà di solidarietà per cui queste persone sono anche si sono anche sacrificate non vengano rimessi in discussione o in pericolo lascerei però l'ultima parola ai nostri due testimoni perché il loro messaggio rimanga impresso il più possibile nella nostra memoria voi chi vivete sicuri nelle vostre tiepide case voi che trovate tornando a sera il cibo caldo e i visi amici considerate se questo è un uomo che lavora nel fango che non conosce pace che lotta per mezzo pane che muore per un sì o per un no considerate se questa è una donna senza capelli e senza nome senza più forza di ricordare vuoti gli occhi e freddo il grembo come una rana d'inverno meditate che questo è stato vi comando queste parole scolpitele nel vostro cuore stando in casa andando per via coricandovi alzandovi ripetetela ai vostri figli o vi si sfaccia la casa la malattia vi impedisca i vostri nati torcano il viso da voi che cos'è dunque l'uomo? noi l'abbiamo conosciuto come forse nessun'altra generazione precedente l'abbiamo conosciuto nel campo di concentramento in un luogo dove veniva perduto tutto ciò che si possedeva denaro potere fama felicità un luogo dove restava non ciò che l'uomo può avere ma ciò che l'uomo deve essere un luogo dove restava unicamente l'uomo nella sua essenza consumato dal dolore e purificato dalla sofferenza cos'è dunque l'uomo? domandiamocelo ancora è un essere che decide sempre ciò che è queste parole non richiedono nessun commento ma vorrei che nel riprendere poi magari in aula con i vostri docenti che ringrazio tutti questi argomenti vi partiste da quella domanda che cos'è l'uomo perché in queste situazioni estreme queste situazioni estreme sono proprio quelle in cui come dice Frank l'uomo è stato messo a nudo e quindi lo possiamo riconoscere nella sua infinità nella sua nel male e nel bene di cui è capace e credo che di fronte a questi eventi ciascuno di noi decide poi decide che tipo di uomo di donna vuole essere questo è l'augurio che vi facciamo nel ringraziarvi per aver partecipato alla nostra diretta spero che potrete rifletterci su e questo sarà il modo migliore di celebrare il giorno della memoria ringrazio ringrazio Caterina Frustagli Francesca e Alessandro e l'assistenza tecnica dell'università buona giornata a tutti buona giornata buona giornata buona giornata grazie a tutti grazie a tutti